Verrà effettuato dal 7 al 9 gennaio 2022 nei plessi scolastici di Matera il tampone rapido per effettuare lo screening anti-covid a più di 6.000 studenti materani e oltre 1.000 insegnanti e personale scolastico. E quanto è stato deciso al termine della riunione del COC, Centro Operativo Comunale, dal sindaco di Matera Domenico Bennardi, alla luce del notevole incremento dei casi di covid-19 con il conseguente aumento della pressione sugli ospedali lucani. La decisione segue la riunione tenutasi lunedì 3 gennaio con la regione Anci e UPI. I dirigenti scolastici della città dei Sassi stanno mettendo a disposizione della macchina organizzativa uno spazio esterno di un plesso per ogni istituto per effettuare lo screening, la gestione degli elenchi, il supporto logistico a disposizione del personale sanitario e per i pediatri deputati ad effettuare i test rapidi. Si tornerà quindi a scuola lunedì 10 gennaio 2022. A breve seguiranno aggiornamenti sulle modalità logistiche con cui sarà effettuato lo screening.